Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, quest'anno per Natale voglio condividere con voi un momento che adoro, un momento davvero semplice e rilassante e anche privato della nostra famiglia, noi che realizziamo appunto l'albero di Natale, io e mia sorella che gestiamo i lavori ascoltando le playlist di canzoni natalizie. Il mio albero ha esattamente 24 anni, l'abbiamo comprato ai mercatini di Natale ad Aversa nel giorno dell'Immacolata, esattamente 24 anni fa. All'epoca avevamo una 126 e mi ricordo la scena, il momento davvero memorabile, in una macchina piccolissima con la scatola dell'albero posizionata sul tetto della macchina. e tutti incastrati come delle sardine. Da allora ho davvero tantissimi ricordi collegati a questo albero. E oltre alle decorazioni vecchie, ogni anno aggiungo qualcosa di nuovo, che sia realizzato da me o che sia acquistato come ricordo di quel giorno. Ogni piccolo oggetto racchiude davvero tantissimi ricordi e altrettante emozioni. Un giorno forse comprerò delle lampadine tutti uguali. Con questo video voglio augurarvi tantissimi auguri, vi auguro di trascorrere dei momenti felici e spensierati con le persone che amate. Io vi saluto, un bacione e ai prossimi video. Ciao! 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 Ciao!